Dopo la violenta aggressione subita da una sessantenne che è stata picchiata dal marito coetaneo a Manopello, l'assessore comunale Giulia Delelli si invita tutte le donne vittime di violenza a denunciare. La donna, picchiata selvaggiamente lunedì scorso, è ancora ricoverata all'ospedale di Pescara con una prognosi di 30 giorni, un episodio che ha suscitato clamore e sgomento a Manopello. Pare che nessuno fosse al corrente delle tensioni e non risulterebbero denunce a carico dell'uomo. Un episodio tristissimo, prosegue Delelli, è avvenuto a pochi giorni di distanza dal tragico femminicidio di Miglianico. Questa famiglia era già stata segnalata ai servizi sociali o no? No, assolutamente no, non abbiamo riscontrato alcun tipo di segnalazione, alcun tipo di indizio che ci potesse far pensare a episodi di violenza familiare. Si tratta di una famiglia rispettabilissima di Manopello che da anni si trova sul nostro territorio e che si è integrata benissimo sin da subito. I figli hanno frequentato le scuole di Manopello sin da quando erano piccolissimi e appunto il padre faceva avanti e dietro dal paese di origine quindi è questo magari che mi fa pensare che in un momento di vicinanza dovuto alle festività natalizie magari si sia scatenato qualcosa che abbia poi scaturito in atti di violenza. Tra l'altro la donna aveva avuto anche dei problemi di salute, era stata anche sulla sedia a rotelle, quindi si è vista la sua forza d'animo nel riuscire a scappare dall'abitazione, andare a Santa Maria Arabona dove è incontrato tra l'altro dei turisti che l'hanno aiutata, l'hanno salvata. Esattamente, la signora aveva avuto dei problemi di salute l'anno scorso che comunque si portava ancora dietro e quello che viene fuori è appunto la grande forza d'animo. Lei ha detto denunciate. Assolutamente, lo diciamo, forse lo diciamo troppo poco. Bisogna denunciare, bisogna farsi forza. Le donne vittime di violenza devono trovare il modo per arrivare a bussare alle porte giuste. Noi abbiamo sul territorio attivi vari servizi. Sicuramente il primo è quello del servizio sociale del comune di Manoppello che vanta un'equipe multidisciplinare piuttosto ampia, tra cui oltre agli assistenti sociali anche una psicologa e una mediatrice familiare. Un altro tipo di servizio molto importante è quello offerto dall'associazione Solideando, che è un ente del terzo settore riconosciuto dalla regione Abruzzo. Si tratta di uno sportello di ascolto, fanno anche gruppi di auto mutuo aiuto e vanta numerosi professionisti che appunto possono aiutare le famiglie. Intanto sul grave fatto di cronaca indagano i carabinieri.